Siamo in Commissione Bilancio e Finanze, è in corso l'esame sugli emendamenti, però ancora non si trovano le coperture su quelli fondamentali, pensione ICI e così? Sì, è così, i due relatori hanno presentato un primo emendamento relativo agli articoli non più importanti della manovra, quindi non l'articolo sulle pensioni e non l'articolo sull'imposto municipale sulla casa. Stiamo aspettando e stiamo proponendo diverse forme di copertura al governo perché naturalmente su pensioni e ICI servono più risorse. Si va più per le lunghe? Domani arriverà, secondo lei, domani mattina in aula il testo? Sì, domani arriverà in aula il testo, non sono sicura che arriverà domani mattina in aula, abbiamo bisogno di un po' più di ore, se riusciamo a fare un lavoro utile in senso di equità della manovra credo che sia giusto per il Paese. Oggi c'è lo sciopero dei sindacati, dobbiamo ascoltare anche quello che accade fuori dalla Commissione, le due richieste fondamentali sono un po' più risorse per le pensioni, un po' più risorse per sostenere le famiglie medie sulla tassazione della casa. Grazie. Grazie a tutti.